Wewe ragazzi e bentornati! Oggi parleremo di tutto il set black metal. Disponibile dai lama attuali, il set black metal è la seconda volta che si presenta su Salva al Mondo. Sono tutte armi molto particolari ma in comune hanno tutte quante una caratteristica, ovvero quella di farci perdere vita. Per molti di noi infatti questo set diciamo che è solamente un set complementare, non andremo mai a utilizzarlo veramente tutto a parte qualche rara eccezione che vedremo appunto durante il video. Ma diciamo che nella maggior parte dei casi non tutti sono favorevoli a questo fatto che appunto andremo a perdere vita sparando, killando, ricaricando, respingendo insomma chi più ne ha più ne metta. Attenzione però che ovviamente con queste armi è possibile abbinare anche gli eroi che hanno lo stesso funzionamento. Quindi aumentare i danni da mischia oppure a distanza in base alla percentuale di vita mancante. Io ragazzi in questo video qualche eroe l'ho messo, qualche volta no, qualche perk l'ho cambiata sulle armi, qualche perk no. Comunque per avere video più specifici per ogni singola arma vi invito a riguardare i video dell'anno scorso. In quanto questo è solamente una rispolverata generale, vedremo tutte le armi un attimo come saranno. Però ovviamente non posso andare nello specifico come quando faccio un video incentrato su appunto un'arma sola. Quindi mi raccomando, se avete dei dubbi, se vedete che un'arma vi piace particolarmente, potete benissimo cercare quell'arma in alto su YouTube che vi comparirà sicuramente un altro mio video oppure magari quello di qualche altro creatore. Comunque partiamo subito. La blackout, arma d'assalto black metal, spara munizioni medie, irraffiche a due tempi, infliggendo danno moderato e impatto pesante. Non fatevi fregare dalle sembianze, in quanto non è una pistola quest'arma, anche se effettivamente sembra proprio una pistola. Il blackout è un'arma d'assalto, ovvero una R, quindi diciamo l'arma che andiamo a dare in mano a Mazza Salto Urbano, per fare un esempio. Allora, l'abbiamo percata con doppio danno critico, elemento fuoco, livello critico. L'ultima sua perk invece aggiunge fino all'80% di danni bonus in base alla percentuale della tua salute mancante. E come prima perk, su questo blackout, troviamo che stordire o respingere un nemico riduce di 12,5% la tua salute attuale e infligge da 29 a 127 di danno base, a seconda appunto della percentuale di salute mancante. In un raggio di 0,75 unità, quindi quasi un tile. Attenzione, non un tile. Si può verificare solo ogni 6 secondi. Allora, questa possiamo dire che è un'arma che ci limiterà molto semplicemente per il fatto che comunque spara raffiche di due colpi. Tra una raffica e l'altra avremo sempre quel momento d'attesa. E sostanzialmente, diciamo, è molto bello quando tanti colpi entrano critici, ma nel momento in cui, diciamo, non molti colpi entrano critici, beh, noterete veramente di quanto sia appunto limitata quest'arma. In sé, comunque, con la giusta build, i giusti vantaggi e, diciamo, anche un modo per recuperare la vita perché per aumentare i danni in base alla nostra vita che scende, beh, come tutti voi ben saprete, diciamo che questo fattore non è molto calibrato in questo gioco. Possiamo dire che se ci ritroviamo con un'arma del genere a sparare e allo stesso tempo quest'arma ci infligge danno, quindi ci toglie la vita e noi continuiamo a sparare perché ovviamente in certe situazioni non è che possiamo fermarci, Beh, posso dirvi che, appunto, vi ritroverete one shot molto molto presto perché nel momento in cui anche subirete il danno dell'arma, magari mettiamo caso che qualche zombie ogni tanto vi picchietta qua e là, beh, non avrete modo appunto di riprendere lo scudo, soprattutto la vita. A meno che, appunto, andate ad inserire, diciamo, il survivalista, andate ad inserire Harley Nizza se è un'arma da mischia, insomma, le tecniche le conosciamo tutti molto bene, però così ovviamente non andremo, o meglio, andremo a sfruttare meno quella che è la sua ultima perk, quella che aggiunge fino all'80% di danni bonus. Però ragazzi, secondo il mio modestissimo parere, vi consiglio appunto di sfruttare queste perk dove proprio è essenziale. Su molte di queste armi, adesso come adesso, fortunatamente potete sostituirle, diciamo, con una velocità di ricarica. Molte armi comunque le ho anche tenute originale, per esempio l'assalto, non abbiamo bisogno di vedere com'è con una velocità di ricarica, non è essenziale come su altre armi, come la velocità d'attacco, no? Comunque me lo sono fatto andare bene così, la R ha una dimensione caricatore di 20 colpi, spara appunto due colpi alla volta, ed è tutto qui, tutto sommato, è un'arma molto molto semplice. La seconda arma di cui parleremo in questo video, e ci tengo a ricordarvi che l'ordine è, diciamo, del registro raccolta in realtà, non è un ordine di potenza, non è un ordine di preferenza, semplicemente seguo l'ordine che hanno nel registro raccolta, quindi il tamburo nero è la seconda. Fucile pesante Black Metal, fucile pesante a tamburo che spara pallottole in scariche da due colpi, infliggendo danno moderato e impatto pesante, con notevole rinculo. Quest'arma, diciamo che già ce l'ha descritta molto bene la descrizione, infatti, come essa dice, ha un bel danno moderato, e comunque posso assicurarvi che in molte situazioni è abbastanza moderato. Ha un impatto pesante, e aggiungerei comunque un'ottima respinta per essere comunque un fucile a pompa, e un notevole rinculo, ok, che il notevole rinculo fortunatamente su salva il mondo è un problema solamente su poche armi. L'abbiamo percata con un doppio danno critico in alto, elemento fuoco, livello critico e velocità di ricarica. La sua prima perk, invece, ricaricare riduce di 12,5% la tua salute attuale. Beh, cosa posso dirvi su questo pompa, ragazzi? È sicuramente un'opzione che si può valutare, anche se comunque siamo abituati a pompa molto più forti e molto più comodi. Però attenzione, perché questo, anch'esso, è un pompa multi-target, quindi sì, va bene anche utilizzarlo contro uno smasher grosso, quindi un bersaglio singolo. E va bene anche utilizzarlo contro tanti zombie, in quanto ha una rosa abbastanza ampia, voi vedrete che colpirete più di uno zombie e in tali casi riuscirete a respingerli tutti. Quindi nel suo complesso, se non prendiamo in considerazione tante altre armi, possiamo dire che comunque il tamburo nero è una di quelle armi di questo set che sinceramente si può valutare l'opzione di potenziare. Però con un senno di poi, ovviamente, ci sono anche altri set. Abbiamo il pulsar 9000, abbiamo l'intimidatore sul single target, abbiamo il grand pounder per divertirci, pompa di fuoco, se proprio ne vogliamo uno, ne abbiamo due del set del drago. Sono tutti e due particolari, è vero, questo è ancora più differente, anche se comunque si avvicina molto a quello del drago che non spara le pallottole, adesso non mi viene il nome. Il dragone, forse? Beh, comunque poi abbinando questo pompa al vafer, ma soprattutto al grido di guerra, riusciremo a sfruttare anche la sua cadenza di tiro e veramente far diventare questo pompa un assassino eccellente. Passiamo alla terza arma! Adesso è il turno del canto funebre, questa è una mitraglietta, black metal, chiaramente. Spara munizioni leggere in scariche da 9 colpi, infliggendo danno moderato e impatto pesante con rinculo medio. Questa l'abbiamo percata con livello critico, danni critici, elemento fuoco, danni critici e aggiunge fino all'80% di danni bonus in base alla percentuale della tua salute mancante. Abbiamo un tempo di ricarica di 1,8 secondi che sì, in certe situazioni potremo anche diminuirlo e rendere quest'arma più versatile, ma nella maggior parte delle occasioni comunque dai da 1,8 secondi a quello che sarebbe mettendo una perk di ricarica non è che ci cambia proprio la vita. E se proprio dobbiamo dirla tutta, comunque quest'arma, come prima perk, l'ho trovata che ricaricare riduce di 12,5% la tua salute attuale. Quindi sì, potete sostituire le perk con i rivantaggi del nucleo, però ecco su quali armi appunto conviene veramente sostituirle. Perché diciamoci la verità, sul set black metal probabilmente gliele cambierai tutte, quindi vanno scelte molto attentamente quelle armi che sono diciamo più propense a farsi potenziare, ok? Comunque quest'arma, se ricordate bene l'anno scorso, l'avevamo chiamata il mini schioppo, perché ha proprio il modo di comportarsi di uno schioppo. Come lo schioppo abbiamo visto che spara munizioni leggere in scariche da 9 colpi. È vero, le scariche dopo 9 colpi non avranno l'esplosione dello schioppo, però ecco, di gran lunga possiamo leggermente paragonarle, e non voglio paragonarle veramente, semplicemente il loro modo di utilizzo. Beh ragazzi, come lo schioppo, ovviamente questi 9 colpi sono dotati di un sacco di potenziale, specialmente se poi su 9 colpi ce ne entrano 8 critici, no? Però appunto, come lo schioppo, armi del genere vanno molto a perdere nel combattimento in massa, ecco, quando ci sono tanti, tantissimi abietti. Sarà un problema riuscire a ucciderli tutti con quest'arma, no? Semplicemente perché sparate i 9 colpi, sperando di colpirne comunque il più possibile, poi dovete aspettare un po', risparare gli altri 9 colpi, che comunque magari nella maggior parte delle occasioni, se gli abietti non sono tanto vicini gli uni agli altri, ecco, se i primi 3 colpi magari killano il piccoletto, magari gli altri colpi vanno tutti a vuoto. Stesso discorso vale nel momento in cui andate a sparare un truccioletto, un abietto di quelli piccolini, no? Sparare 9 colpi di raffica addosso a un piccoletto quando magari gliene basta uno in testa, ecco, risulterà molto molto sprecato. Però di gran lunga comunque un'arma molto molto interessante se non fosse appunto per la sua prima perk, ma comunque tutto il set black metal purtroppo possiede queste perk. Adesso è il turno del cacciatore di mezzanotte. Il cacciatore di mezzanotte è un fucile di precisione black metal, spara munizioni pesanti in raffiche a due tempi, infliggendo danno moderato e impatto pesante. Questo cecchino lo abbiamo percato con un doppio danno critico, un livello critico, elemento fuoco e velocità di ricarica. Niente perk che aumentano i danni quando la nostra salute scende, semplicemente perché comunque aveva una ricarica abbastanza frustrante in certe situazioni. Però attenzione che questo è un cecchino particolare, infatti ha una dimensione caricatore di solo 6 colpi e considerate che poi spara 2 colpi alla volta, quindi praticamente sparerete 3 volte prima di ricaricare. Anche qui vale lo stesso discorso, se su 6 colpi me ne entrano 5 critici noterò un bel danno, mentre se invece su 6 colpi me ne entra soltanto uno critico, beh vi sembrerà quasi di non far nulla allo zombie davanti a voi. Come cecchino comunque non ha perk che si possono considerare utili nel momento in cui magari arrivano tanti abietti, quindi è più un cecchino a single target. O magari anche da bersagli in movimento, possiamo dire che è leggermente più comodo magari da utilizzare contro un taker, contro uno col frigorifero in mano, se dobbiamo per forza mirarlo in testa dalla lunga distanza, no? E assolutamente per congelare se ve lo stesse chiedendo, perché non so se voi vi siete completamente dimenticati ma abbiamo zenith che congela con qualsiasi cecchino, o meglio sui colpi critici dei cecchini. Però anche lì ovviamente non è una scelta ottimale, esistono cecchini di gran lunga migliori sia per danneggiare e sia per congelare. E in più questo cecchino possiede la solita perk, in questo caso eliminando 3 nemici con quest'arma riduco di 12,5% la mia salute attuale, che sono un po' fastidiose ecco. Eccoci arrivati finalmente ragazzi al predone metallico e forse diciamo la prima scelta che dovreste fare su questo set. Il predone metallico, o meglio l'arma esplosiva black metal, utilizza munizioni esplosive per lanciare razze a lunga gittata che infliggono danni ai nemici a medio raggio. Beh in sé non è che ci sia molto da dire se non che appunto ha un sostanziale danno critico, davvero molto interessante. Beh ragazzi l'abbiamo percato con un doppio danno critico, un livello critico, elemento fisico e velocità di ricarica. E non è che ci siano moltissime cose da dire se non che appunto ha un sostanziale danno critico molto molto potente. Però attenzione che come prima perk questo lanciarazzi possiede che stordire o respingere un nemico riduce di 12,5% la tua salute attuale. E respingere con un'arma del genere che ha un impatto di 38.000 e sto parlando dell'impatto non della respinta. In quanto lo sapete ormai meglio di me che per utilizzare un lanciarazzi diciamo con tanta respinta è meglio utilizzare lo schiantadiga. Però in questo caso andiamo a combinare quello che è l'impatto e chiaramente di conseguenza anche la respinta che ha il lanciarazzi con un danno veramente veramente esagerato. Allora ragazzi non fatevi abbindolare da chi vi dice di utilizzare il predone metallico contro il re mitico. Sono sicuro che chiunque di voi abbia provato ad utilizzare il predone metallico, il piccolo aiutante di Babbo Natale o un RPG normalissimo insomma lanciarazzi del genere appunto nella modalità del re mitico. Avrà capito di quanto è svantaggioso utilizzare esso piuttosto che il lanciarazzi mitico o piuttosto che per dirti un cecchino, una vecchia vezzi, uno schioppo. Perché essendo che dal momento in cui voi sparate al momento in cui il proiettile arriva a destinazione passa diverso tempo a differenza del lanciarazzi mitico che è molto più istantaneo per esempio. Beh appunto dicevo che nel momento in cui voi sparate e il colpo ora che arriva a destinazione il re mitico ha fatto anche un piccolo movimento per far sì che sposti il cristallo da dove voi avete mirato e di conseguenza vi fa mancare il bersaglio. Sì è vero che poi facendolo 10, 20, 30 volte questo re mitico impariamo anche i movimenti a memoria. Quindi dovete anche iniziare a ragionare un po' in prefire in quella modalità se decidete di utilizzare un'arma del genere no? Sapete che già per esempio in un certo momento fa un certo tipo di movimento quindi voi già iniziate magari a mirare in quel punto. Però ecco è molto più difficile shottare i cristalli con un lanciarazzi del genere piuttosto che con appunto l'ira del re della tempesta. Il lato vantaggioso è che appunto l'ira del re della tempesta bisognerà sempre utilizzarlo a una distanza comunque medio ravvicinata, medio lontana chiamiamola dai. Mentre comunque con un'arma come il predone metallico, come il piccolo aiutante di babbo natale eccetera eccetera potrete utilizzarlo semplicemente da dove volete. Molto molto comodo magari nel momento in cui dovete killare il mini boss epico, addirittura in quel caso magari molto più comodo rispetto al lanciarazzi mitico no? Poi ovviamente tutto ciò è questione di gusti e abitudine ma diciamo che come dato di fatto il fatto che il proiettile ci metta un po' di tempo a percorrere una distanza e calcolando anche il fatto che il re mitico si muove molto molto spesso, beh ragazzi non potevo che non farvi questo ragionamento. In sé comunque come lanciarazzi utilizzato nelle missioni contro gli abietti, contro gli smasher e contro tutto ciò che circonda salva il mondo, beh è un lanciarazzi sicuramente da 5 stelle. Quindi indovinate un po'? Questo assolutamente non fatevelo scappare. Siamo arrivati all'arco del set black metal ragazzi, il gufo nottambulo. All'uscita del set ancora non esisteva quest'arco però ovviamente è stato introdotto ed è un'arma black metal a tutti gli effetti. Fucile di precisione, arco black metal. Spara una freccia che cade nel tempo infliggendo danno moderato e impatto pesante. Danno, gittate e velocità aumentano con il tempo di carica. Non un arco molto particolare purtroppo in sé gli archi gli uni dagli altri non è che siano molto differenti, diciamoci la verità. Ha solo comunque un danno moderato e un impatto pesante quindi riuscirete a sbalzare molti abietti anche se per effettuare tale lavoro esiste lo stesso l'arco del set idraulico. E ricordiamoci che il set idraulico ormai è quello con più respinta. Comunque danni critici, livello critico, elemento fuoco, danni critici e aggiungiamo fino all'80% di danni bonus in base alla percentuale della salute mancante. Ecco utilizzato con farra eliminando due nemici con quest'arma riducendo diciamo il 12,5% della salute attuale e con farra praticamente ad ogni colpo che sparerete e subirete danno. State quindi molto attenti a come è andata a sviluppare la build. E ve lo ripeto ragazzi purtroppo questo fatto qui della prima perk è più uno svantaggio che un vantaggio, è un vantaggio nel momento in cui vogliamo sfruttare l'ultima perk, la build di eroi andando a mettere queste cose qui. Ma personalmente è uno stile di gioco che proprio non mi piace ragazzi è passato un anno, ci ho provato, ci ho riprovato, ho provato con le build di eroi giuste, con le build di eroi sbagliate, col survivalista, senza survivalista, ho provato questo e l'altro. Proprio questo fatto che mi tolgono la vita proprio non mi piace. Quindi con gli archi bene o male abbiamo una vasta scelta, io ci tengo molto a precisarvi che sono armi di cui spenderei molto volentieri i miei vantaggi del nucleo per appunto cambiargli questo particolare della vita, però inizialmente lo vorrei fare solamente sul predone metallico. Purtroppo però nel momento in cui vogliamo cambiare queste perk otterremo solamente una scelta che ci aumenterà i danni contro i nemici di tipo natura. Certo, ottimo se ci facciamo questo set di fuoco, quindi andiamo a boostare queste armi contro quelli di tipo natura, però per esempio con un'arma tipo il predone metallico abbiamo la stessa scelta, quindi se vogliamo cambiare questa perk possiamo solamente aumentare i danni contro i nemici elementali della natura. Di conseguenza andremo a boostare i danni solo appunto contro questi ultimi, mentre comunque tenendo questa perk che stordire o respingere un nemico riduce di 12,5% la tua salute attuale, diciamo che sfruttiamo il boost contro tutti ecco. Quindi mi raccomando valutate sempre attentamente ciò che volete fare. E' il turno delle armi da mischia finalmente. Abbiamo come prima un'ascia, la trita carne a bietta, ascia pesante black metal, infligge danno moderato con impatto elevato. Il suo attacco secondario, anche chiamato attacco maelstrom, attacco pesante che vortica continuamente tenendo premuto il comando di fuoco alternativo. Come la falcia al vapore e come la spada del set art deco, l'attacco secondario di quest'ascia ci permetterà di ruotare su noi stessi e appunto infliggere danni a tutti gli zombie circostanti a noi. Quindi chiaramente prediligiamo molto l'efficienza energetica attacco pesante. Allora, doppio danno critico, elemento fuoco, livello critico ed efficienza energetica attacco pesante. Abbiamo che stordire o respingere un nemico riduce di 8% la tua salute attuale e appunto in questo caso è molto molto fastidioso se per esempio nella build con Sara anticoccole, faccio un esempio, vi dimenticate di mettere qualcosa per la vita tipo survivalista o arlenizza. Ecco perché alla lunga vi ritroverete sempre full shield e senza vita, quindi nel momento in cui vi sciottano lo shield, praticamente un colpetto è andata a terra. E in quel caso è molto molto fastidioso ragazzi, ve lo posso assicurare. Quindi va bene sfruttare la prima perk, però è sempre meglio metterci qualcosa che ci rigenere la vita, specialmente su queste armi. Già comunque nel gioco è molto molto richiesto qualcosa per sopravvivenza, no? Sappiamo che in certe build magari è meglio utilizzare il cocco, in altre arlenizza, piuttosto che in altre il survivalista. Qui ragazzi, ovviamente essendo un'arma da mischia il mio consiglio cade su arlenizza, però ovviamente anche utilizzare un semplice survivalista va benissimo. In sé comunque l'attacco rotatorio di quest'ascia è veramente veramente forte, possiede appunto tanto impatto, quindi riuscirete a sbalzare i zombie circostanti a voi. E se non fosse appunto per questo fatto che ci togliesse la vita, beh sarebbe veramente una delle migliori asce in tutto il gioco. Per l'effetto rotatorio mi sento di dire comunque purtroppo possiamo optare per qualcosa che appunto non abbia questa perk fastidiosa. La spada art deco, piuttosto che la falcia al vapore, eccetera eccetera. Adesso è il turno dell'affettatrice dei prole. Questa è una falce black metal, infligge danni moderati con un impatto pesante in un arco ampio. Attacco a mulinello, quindi ha un attacco pesante effettuato ruotando più volte che ferisce e respinge i nemici vicini. Quindi un attacco che troviamo su moltissime armi a dire la verità. E in sé comunque diciamo che questa, secondo i miei gusti, è la peggiore arma di tutto il set. Non ha niente di particolare, non ha un motivo per cui io dovrei potenziarmela. Cioè anche molte altre armi non rispettano questi parametri. Però veramente questa affettatrice di prole la vedo parecchio parecchio inutile. Certo l'attacco secondario se ho gli zombie intorno a me è molto molto comodo. Shotto praticamente tutti. Appena però vi si presentano due col frigorifero in mano, beh dovrete fare acrobazie per killarli. Possiede purtroppo la solita perk fastidiosa alle set black metal, ma questo non è un problema in quanto comunque ha tanti altri aspetti negativi prima ancora di arrivare al percaggio. Allora l'abbiamo percata con una velocità d'attacco, un livello critico, elemento fuoco, danni critici e infine aggiunge fino all'80% di danni bonus in base alla percentuale della salute mancante. Beh ragazzi purtroppo su questa falce non è che ci sia molto da dire, non mi piace particolarmente, non ha un utilizzo unico su cui posso contraddistinguerla da altre armi. E se posso essere sincero me ne ero pure dimenticato che esistesse quest'arma. Se non fosse per il fatto che appunto suo nome inizia per A, quindi me la ritrovo praticamente in cima a tutte le liste. Passiamo alla prossima! Abbiamo la notte silente, questa volta una lancia. Lancia squarciamento black metal. Infligge danni moderati con impatto pesante in un arco ampio. L'attacco molinello è un attacco pesante che infligge danno e notevole respinta in un raggio di 0,5 unità dal punto di impatto. Quindi mezzo tile. Percata con un livello critico, un danno critico, elemento fuoco, velocità attacco ed efficienza energetica attacco pesante. Perché comunque ci ritroveremo molte volte a dover utilizzare l'attacco secondario in terra per poter diciamo danneggiare i zombie, stordirli, respingerli eccetera eccetera. In sé comunque è vero, non è la miglior lancia, assolutamente no. Siamo abituati direi abbastanza bene con le lance. Sia il serlancillotto che la lancia musicale, piuttosto che quella fantascientifica diciamo che sono tutte di un gradino superiori. Però se posso essere onesto questa lancia non è sicuramente peggiore dell'affettatrice di prole. È carino utilizzare l'attacco secondario se appunto fa entrare l'impatto sugli zombie. Non ha un danno esagerato quindi è vero, non è nulla di speciale. Ed è per questo motivo che ho preferito buildare un po' di velocità d'attacco no? In modo che riesco a utilizzare sì l'attacco secondario ma ovviamente anche utilizzarla così per picchiettare gli zombie. Quindi l'abbiamo percata di fuoco visto che comunque non è una lancia così tanto forte da poterla utilizzare contro chiunque. Però è molto divertente nel momento in cui siete raggruppati da tanti abietti e voi utilizzate l'attacco secondario per colpire quel mezzo tile intorno a voi. È molto molto divertente e molto soddisfacente in quel caso. Però purtroppo anche la notte silente ha molti lati negativi prima ancora di arrivare al percaggio. Ed eccoci arrivati all'ultima arma del set black metal, l'alama nera. Spada pesante black metal, una grande spada con danno moderato e impatto elevato. Attacco in salto è un attacco pesante che salta sull'area bersaglio infliggendo danni e abbattendo i nemici vicini. Anche questa comunque ha un attacco secondario spammabile, molto molto forte. Però purtroppo chiaramente abbiamo la solita perk fastidiosa del set black metal. Allora eliminare un nemico con quest'arma riduce di 8% la tua salute attuale e infligge da 26 a 151 di danno base a seconda della tua percentuale di salute mancante in un raggio di 0,5 unità. Abbiamo percato comunque questa spada con una velocità attacco, un danno critico e elemento fisico questa volta perché comunque preferisco utilizzarla un po' contro tutti. Livello critico ed efficienza energetica attacco pesante perché come vi ho detto prima ha l'attacco secondario appunto spammabile. Quindi meno spendiamo per appunto fare l'attacco in salto più riusciamo a farne chiaramente quindi a infliggere più danni. E molte volte anche a rincorrere piuttosto che scappare da certe situazioni sfavorevoli o favorevoli no? Se c'è quell'occhio bello da lontano che vi spara fate un piccolo salto, fate l'attacco secondario e sarete immediatamente da lui. Questa in sé è comunque secondo me una lama molto molto interessante però purtroppo ovviamente come tutte le armi di questo set ha il fatto che ci toglie la vita. Quindi vi starete chiedendo perché non utilizzare la mano mitica che non ha questi difetti? E d'altra parte vi do anche ragione in questa situazione. Purtroppo ragazzi il set black metal è così. Anche andando a sprecare diciamo i rivantaggi del nucleo l'unica cosa che potete veramente fare è quella di aumentare i danni contro i nemici di tipo natura. Quindi chiaramente su molte armi la scelta più ottimale sarebbe appunto quella. Ma ovviamente non fate questo errore di cambiare questa perk su per esempio il predone metallico e mi viene da dire solamente su quella perché è l'unica che merita veramente di tutto il set. Perché ragazzi il predone metallico vi ritroverete a utilizzarlo praticamente contro chiunque e non solo contro gli zombie di tipo natura. Però chiaramente è un danno potenziato contro gli zombie di tipo natura. Ciò non significa che è sbagliato utilizzarla contro i nemici d'acqua piuttosto che quelli di fuoco. Solamente che così non andate a sfruttare il 100% dell'arma. Anche se comunque possiamo dire che con un cambio di perk sarebbe già meglio rispetto al perder vita. Perché per esempio se utilizzate il predone metallico in una modalità tipo il re mitico e mentre sparate all'epico magari respingete tutti gli zombie intorno e vi ritroverete sempre in one shot. E tutti voi sapete quanto è fastidioso. Quindi mi raccomando dovete sempre prestare attenzione al metodo di gioco che volete utilizzare. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto. Spero soprattutto di esservi tornato utile in qualche maniera come il mio solito. Anzi ragazzi fatemi sapere voi nei commenti quale di queste armi secondo voi merita il vostro potenziamento. Però attenzione che questa volta voglio anche sapere qual è la peggior arma secondo voi di questo set. Qual è quella che proprio non vi potenziereste nemmeno se vi pagano. Perché sicuramente una tra queste armi c'è eh. Ne sono altamente sicuro. Io ragazzi vi ringrazio della visione. Vi ricordo solo di lasciare un bel pollicione in su per supportare il canale. Potete decidere di supportarlo anche inserendo il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. E ragazzi per oggi è tutto. Noi comunque ci vediamo con il prossimo episodio. Bella bella! Ciao!